salve a tutti sono luigi di non solo tracing diretta da casa mia ebbene sì ragazzi oggi ho fatto un viaggio indietro nel tempo sono tornato nei mitici anni 90 anche se a me piacciono più quelli anni 80 ma devo perfezionare il diciamo la macchina del tempo perché comunque oggi non si parla di un film del 1990 o comunque degli anni 90 ma di un film ambientato negli anni 90 ebbene sì nonché hot summer nights che non sono appunto le nostre le nostre calde notti d'estate che stiamo vivendo in questi giorni in questi mesi perché effettivamente veramente il caldo è veramente una morsa incredibile proprio è pazzesco questo caldo così tanto asfissiante e abbiate clemenza se sentirete rumori fuori perché ho la finestra completamente spalancata mi possono sentire vicino mi può sentire chiunque dal palazzo ma non mi non mi non mi importa perché alla fine sto facendo il mio dovere insomma cioè farvi conoscere un film che probabilmente quasi nessuno conosce nonché appunto il titolo che vi ho appena citato hot summer nights film del 2017 di elijah bynum allora questo registra qui purtroppo sono andato a documentarmi non ha diretto nient'altro se non appunto questo solo questo film qui hot summer nights purtroppo solo questo film qui tra l'altro è stato presentato al south by south west festival e quindi ha vinto qualche premio è un film che tra l'altro lo dico fin da subito per chi fosse interessato a recuperarselo non c'è in italia è un film che non è stato distribuito in italia in italiano doppiato niente non esiste quindi ogni colgo occasione per fare un appello mi rivolgo a chi si occupa di adattamenti doppiaggio chiunque si occupi di queste cose qua io vorrei proporre un adattamento quindi un doppiaggio di questo film in italiano perché sinceramente non dico che merita però effettivamente mi dispiace che un film come questo un film carino come questo non sia potuto uscire in italia né in dvd né al cinema e quindi potevo capire magari anche in streaming però a questo punto direi anche in streaming visto i tempi che corrono con la pandemia e tutto il resto quindi alla fine io propongo a chi sa fare queste cose qui chi appunto io ovviamente esigo doppiaggi ovviamente professionali che siano riconosciuti e che siano naturalmente tassati tutto il resto quindi fan doppiaggi no ma quindi questo intendo hot summer nights cioè appunto le caldi notte d'estate di timothy shalamet perché effettivamente il protagonista di questa storia è timothy shalamet già star di appunto chiamai col tuo nome che naturalmente realizzerà lo stesso anno nel 2017 però c'è da dire che questo hot summer nights è uscito cioè o meglio è stato girato voglio dire nel 2015 ha avuto dei problemi di distribuzione fino al 2017 che è stato distribuito appunto ad agosto e naturalmente c'è da dire che questo film alla fine non è questo gran capolavoro ecco voglio subito mettere le mani avanti non è un capolavoro di che genere è un genere drammatico barra con me non tanto come però è più un film drammatico direi sinceramente non saprei come catalogarlo come genere effettivamente io direi più prevalentemente il drammatico come genere però effettivamente c'è timothy shalamet che interpreta questo adolescente sui 16 15 anni 17 anni insomma quell'età lì che va dopo la morte del padre viene spedito da sua zia a lavorare o comunque a passare l'estate a cape code tutto questo ambientato nel 1991 è appunto nello stesso periodo perché appunto per chi appunto sa che cosa è successo nel 1991 in estate in quella zona lì a cape code è avvenuto l'uragano bob che sembra divertente chiamarlo così però effettivamente è stato un uregano abbastanza potente ha distrutto parecchio la zona ed è vero quindi è ambientato anche nella realtà non è anche infatti il film subito si fa un po burla dello spettatore perché scrive subito questa è una non storia vera in genere senso è una storia anzi una storia quasi vera c'è scritto quindi insomma per dire che comunque sia le ambientazioni quello che è accaduto poi verso il finale del film cioè appunto il finale del film è l'uragano effettivamente l'uragano bob effettivamente che non c'entra praticamente nulla però alla fine è soltanto accaduto in quel esatto momento storico cioè nel 91 in quell'estate del 91 a cape code in massachusetts e quindi naturalmente insomma hanno voluto dire che comunque sia si tratta di una storia quasi vera cioè quella della storia di questo appunto danny interpretato da timothy chalamet che avvicinandosi a andando a una festa una festa sapete quali tra liceali insomma ecco tra adolescenti incontra questo ragazzo un po molto più grande di lui che subito tra virgolette se ne innamora tra virgolette ma non dal punto di vista fisico ma perché appunto vuole fare soldi fare soldi in fretta e naturalmente si può dire che comincia a spacciare droga quindi i temi principali di questa storia effettivamente sono appunto le turbe adolescenziali quindi queste cose qua classico film da adolescenti quindi un coming age insomma come si suol dire ma soprattutto è un film che tratta dei temi principali soprattutto degli anni 90 cioè lo spaccio della droga che era abbastanza comune a quel periodo non che ora non sia così però all'epoca era abbastanza comune il fatto che si spacciasse droga come appunto cocaina marijuana e quindi queste cose qui e poi un'altra cosa molto particolare di questo film è appunto un'altra tematica come appunto i primi amori con praticamente in realtà si può dire proprio l'estate perché si sa l'estate per un adolescente cambia tutto in un'estate quindi magari da giugno fino a settembre può cambiare tutto stesso argomento abbiamo già trattato che ho già trattato in luca che un'estate può cambiare tutto ed effettivamente questo è un film che effettivamente cambia tutto perché alla fine le storyline di tutti i personaggi vengono cambiate radicalmente alla fine di questo film qui non farò spoiler perché alla fine non c'è molto a spoilerare in un film come questo però alla fine la storia è questa molto semplice banale se si può definire anche così ricca di stereotipi quindi naturalmente lui il classico adolescente un po goffo niente quindi notizionalmente questo adolescente praticamente goffo non fanno insomma si vede che è molto impacciato però poi comincia a prendere man mano la mano e comincia a essere molto più sicuro di se stesso quindi niente di più niente di che non abbiamo già visto in un qualsiasi altro film e mi dispiace però ripeto comunque che è un film così ben girato perché alla fine io ho apprezzato veramente tanto il lato tecnico del film perché ha una regia molto retro una fotografia una regia molto retro però c'è da dire la verità è molto saturata una fotografia molto saturata ricca di contrasti tipica dei film anni 90 quindi sembra proprio uscito dagli anni 90 anche come stile di montaggio come tutto insomma è un film molto particolare con movimenti di macchina sempre molto particolari articolati molto rapidi alla tra virgolette brian de palma così alla scorsese non per paragonarlo però insomma per farvi capire più o meno che insomma si sono ispirati evidentemente a quello stile lì per non parlare del fatto che essendo ambientato nel 91 ci sono un sacco di riferimenti a questo drive in famosissimo che a cape cod c'era poi naturalmente è stato distrutto dal dall'uragano bob questo famoso drive in dove proiettavano continuamente terminator 2 il giorno del giudizio perché era quello l'anno in cui era uscito oppure comunque il laureato o adesso non mi ricordo forse anche la stangata si veniva proiettato anche la stangata facevano la serata doppia il bello dei drive in insomma ecco quindi è un film molto retro quindi diciamo molto nostalgico è un film nostalgico degli anni 90 finalmente un film nostalgico degli anni 90 e non degli anni 80 no che la cosa mi dispiacqua però insomma alla fine insomma hanno fatto anche bene a ambientarlo in quel periodo storico particolare niente di più niente di meno alla fine la caratterizzazione dei personaggi sono abbastanza come dire i personaggi sono abbastanza non dico piatti però quasi bidimensionali non c'è non c'è molto spessore nei loro personaggi ovviamente ci si affeziona più al protagonista perché è lui il protagonista dalla storia cioè il personaggio di danny però i coprotagonisti cioè i comprimari anche appunto interpretato ad alex rox nonché appunto hunter i personaggi anche lo spacciatore insomma o comunque maika morrow che interpreta appunto mikhaila diciamo che questi sono i tre personaggi protagonisti assoluti dalla storia effettivamente sì ci si si affeziona ok però alla fine non sono così tanto carismatici purtroppo hanno poco carisma i loro personaggi devo dire la verità tranne appunto quello del protagonista naturalmente che hanno fatto probabilmente hanno scritto leggermente meglio anche se anche lui un pochino privo di spessore non non ho visto questa grande caratterizzazione non è così tanto carismatico come personaggio come gli altri d'altronde ci sono macchiette come appunto il personaggio del di thomas interpretato da thomas jane che interessa questo sceriffo vicetenente insomma una roba del genere che proprio parla con la voce roca vestito da poliziotto insomma il classico poliziotto di cui devi avere paura e naturalmente william fitchner che interpreta questo spacciatore questo signore della droga no che è molto sopra le righe che ha il suo tizio di fiducia è la sua donna che suona al pianoforte addestrata che lui appena non vuole che appena si infastidisce dice alla ragazza di smettere di suonare però in realtà siccome la ragazza non sente lui spara in aria e per farla smettere addirittura vedete quanto sono esagerati i personaggi in questo film qui quindi insomma per farvi capire più o meno quello che accade in questo film qui ecco quindi alla fine la sceneggiatura del film non è questa grande novità alla fine non è non c'è niente di originale non ve nulla di originale però alla fine è un racconto tra virgolette di formazione per non parla del fatto che è narrato anche in terza persona perché c'è questo personaggio che non si sa chi è è una narratrice è una voce femminile che racconta della vicenda che è avvenuta nel 1991 nell'estate nel 1991 a Cape Cod quindi niente di più niente di meno alla fine questo è il film Summer Nights insomma montaggio e ritmo devo dire la verità alla prima visione quando ho visto la prima volta l'ho trovato molto lento alla seconda volta quando ho visto la seconda volta ho notato questo montaggio molto più serrato molto più coinvolgente è un film abbastanza l'ho trovato un film abbastanza scorrevole soprattutto più scorrevole dalla prima volta che l'ho visto ed effettivamente è un film che riesce a intrattenere dura quasi sulle due ore però riesce a intrattenere abbastanza ve lo consiglio ve lo consiglio e naturalmente ci sono questi jump cut no i jump cut sono i tagli che faccio io ogni tanto quando faccio i video no che quando mi sbaglio a parlare taglio e inizio direttamente a parlare con la frase giusta insomma ecco questo è un jump cut insomma ecco e quindi queste due ore scorrono abbastanza rapidamente alla seconda visione perché la prima non lo so perché l'ho trovato abbastanza lento come film non c'è molto a dire secondo me di questo hot summer nights è curato alla perfezione ho trovato bellissimi titoli di testa in stile vhs come state vedendo questa recensione non a caso e ho deciso di farla in questo modo proprio perché volevo richiamare diciamo la nostalgia agli anni 90 no le vhs per vedere un video insomma all'epoca non c'era mica youtube naturalmente prendevi la vhs cioè ce la ficcavi nel video registratore e poi la guardavi sul televisore a tubo catodico naturalmente ed è meraviglioso io adoro quel periodo lì anche perché comunque io l'ho vissuto cioè io ho visto il cambiamento con le televisioni a schermo piatto poi giustamente essendo tra virgolette un millennials perché in realtà più quasi lo sono quasi diciamo mancavano mancava poco per esserlo e quindi alla fine c'è da dire che anche le musiche purtroppo la colonna sonora proprio originale del film l'ho trovata abbastanza anonima però effettivamente in compenso la musica extra diegetica cioè per chi non sapesse la musica che nel film insomma quella che sentono comunque il radio che serve a narrare la scena l'ho trovata abbastanza buona perché comunque ci sono pezzi come appunto space oddity di david bowie per esempio un esempio c'è una scena meravigliosa dove lui trova il coraggio e parte space oddity di david bowie così all'improvviso senza che te ne accorga è meraviglioso niente alla fine musica del periodo è insomma film molto molto interessante molto valido ve lo consiglio se riuscite a recuperarlo però io più che altro vorrei ribadire che sicuramente sarebbe stato molto meglio se l'avessi visto in italiano non perché voglia sminuire il lavoro fatto da questo regista comunque degli attori in presa diretta lì quindi naturalmente gli attori lì appunto che parlano in originale però insomma potete ben immaginare che secondo me se avessero fatto il film se avessero distribuito il film in italiano se avessero fatto un doppiaggio di questo film qui sicuramente io l'avrei comprato in dvd o blu ray quindi sicuramente ci sarebbero stati dei guadagni su questo film qui quindi mi chiedo come film come che ne so film proprio di film film trash adesso non mi vengono titoli però insomma film trash vengono distribuiti tranquillamente no quali sì e film come questo che lo ritengo abbastanza valido infatti il mio voto è un 7 perché comunque contestualizzato al fatto che i personaggi sono bidimensionali non c'è molta originalità nella vicenda però insomma ci sta come film è un film che io vi consiglio assolutamente di recuperare nel caso poste interessati naturalmente quindi non credo ci sia molto altro da dire su hot summer night se non cerchiamo di portarlo in italia cerchiamo di far arrivare questo film a a chi di dovere e che appunto possa doppiarlo in italiano quindi io niente ho fatto la mia ho fatto il mio appello a chi di dovere chi vuole ascoltarlo ben venga perché veramente io l'avrei sicuramente acquistato però sicuramente non si può esaudire il desiderio di una persona perché sono soltanto uno a richiedere un film come questo però insomma io faccio il mio lavoro su youtube cioè quello di farvi scoprire film che non conoscete probabilmente qualcuno proprio penso in italia forse una decina di persone lo conosceranno uso fin qua però almeno così grazie a me possono conoscerlo un po tutti hot summer nights di elijah bainum con timothy shalamet ve lo consiglio assolutamente con questo ragazzi non so più che altro dirvi ci rivediamo in altra prossima recensione ciao a tutti naturalmente nel presente ciao a tutti ciao a tutti